Cominciamo la settimana, la cominciamo bene con quest'aria di scirocco, con questo caldo, una temperatura che divide l'Italia in due, non soltanto dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista atmosferico. Sopra la pioggia li sta distruggendo, sotto il caldo invece ci sta veramente ammazzando. Buongiorno a tutti, buongiorno Terry, come stai? Buongiorno, bene, grazie. Tu stai bene? Tutto a posto? Ci difendiamo, abbiamo passato una bella domenica, una domenica di sole, una domenica quasi quasi, dovrei dire, di mare. Va bene, ieri mattino abbiamo fatto una capatina al porto insieme a mia moglie, era uno spettacolo, veramente qualcosa di meraviglioso, qualcosa di bello. Tu ci sei stata? Mi invitaste? Io ti devo invitare io. Ho capito, incomincia, già ci incomincia a dire tutto quello che hai fatto il sabato, la domenica, e oggi che cosa farei? Non te lo dico, oggi farò una trasmissione insieme a te, questa trasmissione sul Radio Doc che trasmette da Capodorlando che si chiama Detto Tra Noi. Lunedì e giovedì con Terry e Turi, tutti gli altri giorni Terry ed altri simpaticissimi ospiti. Beh, simpaticissimi lo aggiungi tu perché sei garbato, gentile, affettuoso, ospiti dai! Non credo che tu possa invitare gente alla tua trasmissione, quantomeno che non ti sia simpatica. Non l'avresti mai fatto, conoscendo il soggetto dico non lo farai mai. Ho visto che hai scelto, ah no no no, ha cambiato, hai scelto dei brani oggi in perfetta sintonia con il tuo umore, con la tua gioia, sei felice, che hai? No, è un brano che mi è stato richiesto da una nostra ascoltatrice o da una persona che ci segue giornalmente e mi ha detto ci mi fai ascoltare un brano di questa cantante, sarai accontentata, un attimino di pazienza e la regia manderà in onda il brano richiesto. Ora, quando arriva Turuzzo si vede che lui è riposato e che a casa parla poco perché generalmente i maschi, i maschi, dovete sapere, i maschi, ti ricordi questa canzaccina? I maschi, i maschi e anche le donne saranno così sicuramente, però siccome io sono donna devo criticare l'uomo. Le maschie, le maschie. No, devo criticare l'uomo, tu devi criticare le donne. E perché? Perché se facciamo un programma che deve essere un po' sarcastico, eccetera, 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 dobbiamo pur prendere di mira qualcuno, non credi? Perché i maschi generalmente a casa non possono dire mezza parola, perché la moglie se sbaglia a parlare glieli dà. Poi, non c'è soltanto questo, è l'anello. Eh, lo so, lo so, solo che si sente anche in cuffia l'anello che sbatte. Tu pensavi di avere il culetto di qualcuno sul quale stavi dando le pacche. No, 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 io non ho marito, non ho nessuno per cui non voglio dare botte a nessuno. E comunque devo dire che è la caratteristica vostra. In casa non comandate un cavolo, non potete fare un cavolo perché siete sempre rimproverati. e chiacchiera niente, poi quando arrivate sul posto di lavoro, incominciate a liberarvi di tutte le vostre schiavitù. E allora, se a casa non parlate, incominciate a parlare fuori, a rompere le scatole fuori. Quindi tu sei stato un weekend in perfetto silenzio. Divano, televisione, frigorifero, televisione, frigorifero, divano, e Maria Teresa che ti dice, questo non lo devi fare, questo non lo devi fare, questo non lo devi mangiare. Ma guarda, non sono d'accordo con te nel dire in perfetto silenzio, perché sicuramente un paio di volte, fra il pomeriggio di ieri e ieri sera, un paio di volte avrò gioito, avrò gioito. Due volte dalle tre alle cinque e una volta dalle nove, in un quarto in poi, quando il Napoli non ha saputo... Ma tu, perché te ne vai sempre sul calcio? Io parlo della vostra condizione miserevole e tu te ne vai sempre al calcio. la Juve che vince, l'Inter che pareggia, che perde... In Napoli che perde il primo posto. Perché la vostra gioia, la gioia degli Juventini, è semplicemente o la loro vittoria o la disgrazia altrui. Non c'è niente da fare, voi siete sempre fatte così. Ma vedi, nel calcio, sportivamente parlando, esistono due categorie di tifosi. Ci sono quelli juventini e quelli anti-juventini. Poi non c'è altra categoria, non c'è milanista, non c'è interista, non c'è romanista. Juventini e anti-juventini. Queste sono le due categorie... Siete voi che siete fatti male. Devi credere. C'è uno che vince sempre fatto male, hai ragione. No, no, se vince perché meriti, ma dobbiamo anche dire che molto spesso invece di undici siete dodici, tredici, quattordici, quindici nel campo. Anche ventiquattro. Anche ventiquattro, molto spesso. Quindi dobbiamo anche ricordarlo. Però, onore al più forte, io sono per chi è più forte e vince nella giusta maniera, rispettando tutte le regole. E se la Juventus le rispetta, perché no? Chapeau. Chi se ne frega? La settimana scorsa, quando la Juve ha vinto contro il Tottenham in Champions League... Certo, non ne abbiamo potuto parlare. No, 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 è giusto. Parne, volevo rapportare le parole di un giornalista sportivo, il quale ha detto la Juve non è bella, ma è forte. Ah, la Juve è forte, non è bella. Il Napoli, invece, non è forte, ma è bello. E io tifo per il Napoli. Bisogna vedere cosa sceglie. Se si sceglie la bellezza, oppure se si sceglie la forza. Se la bellezza, unita alla forza, ti porta a determinati risultati, e allora va bene. Ma perdere giocando bene, o vincere giocando male, a voi la scelta. Eh, certo. L'importante è vincere, chi se ne frega. È vero? L'unica cosa che conta. Va bene. Sì, sì. Andiamo col primo brano. Abbiamo già consumato... E la tua canzoncina, questa? No, 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 no. Io vorrei dopo... Tu che cosa hai scelto? Un brano strappalacrime? Mia Martini. Strappalacrime. Non lo so se strappalacrime chiameremo un oculista, ma è Mia Martini. 24 minuti dopo le 11, oggi è lunedì 12 marzo dell'anno 2018. Ci pensi che fra tre lunedì è festa, lunedì di Pasqua? Il calendario vivente ha parlato. La Sibilla ha spiegato che cosa si verificherà. Quest'anno la Pasqua è uno scherzo della natura. Perché? Primo di aprile. Scherzo della natura. A vedere quanto pernecchiette ci saranno. Tu che cosa farai per Pasqua? Per Pasqua? Proprio il giorno di Pasqua credo di avere un invito perché mio fratello compie 70 anni e quindi saremo tutti insieme a festeggiare. Ma lo sai anche quel giorno? Peppuccio fa il compleanno. Lo so, lo so. Eravamo compagni di scuola alle medie con Pippo, prima, seconda e terza media insieme e siamo rimasti sempre in buoni rapporti. E tuo fratello Carmelo? Sì, mio fratello Carmelo fa 70 anni. Infatti ha precluso questo suo compleanno la nostra andata su al nord a trovare la piccola e la famiglia nostra. Va bene? Anche perché mio fratello in quei giorni sarà da solo perché i loro figli non scenderanno e quindi è giusto e doveroso che io gli faccia compagnia e festeggeremo insieme. Hai già pensato al regalo che farai? Ancora no, ma sicuramente non sarà un... Ci penserà a Teresa che è la donna di casa, eccezionale questa ragazza. Non sarà un regalo come gli altri anni, magari uno regalo è una confezione di vini, qualcosa, una cosa di più particolare perché il compleanno è quello particolare, dico bene? Perché fa 70 anni? Certo. Ogni anno è un giorno particolare, è una conquista per cui... Secondo me ogni giorno è un giorno particolare. Sì, ma quando si festeggia il compleanno, a qualunque età si faccia, bisognerebbe mettersi in ginocchio, ringraziare e dire, ce l'ho fatta! La mia filosofia è quella che quando la mattina mi alzo dico, e già stiamo 1 a 0, perché abbiamo avuto la fortuna di mettere i piedi a terra dal letto e quindi poterci alzare e poter affrontare un'altra giornata. Bello brutta che sia, non ha importanza, questa poi saremo noi un po' a crearcela, ma comunque affronteremo sicuramente un'altra giornata. Devo dire che anch'io al mattino sono molto più gasata... Vabbè, io sono un caso a parte, ma al mattino sono sempre piena, forte di energia. La notte non è che mi porti consiglio, perché generalmente per poter una persona pensare dovrebbe stare sveglia. Io dormo che è una meraviglia, però al mattino ho già le idee chiare su che cosa fare, su cosa dire, con chi prendermela eventualmente, di tutto e di più. Diciamo che sei un Prosecco la mattina e una Ferrarelle la sera, perché la Ferrarelle è meno gasata rispetto al Prosecco. Beh, dipende, dipende. Poi dalle situazioni, dalle compagnie, eccetera, eccetera. A proposito di Prosecco e Ferrarelle, vorrei mandare un grossissimo saluto agli amici del supermercato Qualità che ci ascoltano tutti i giorni. Un ciao a tutti e buon lavoro, ragazzi. Ciao ragazzi, buon lavoro. L'altro giorno c'era una mia amica che era entrata al negozio e ad un certo punto mi disse, sai, io mi beavo di questa persona che parlava ad un certo punto come se io non l'avessi mai ascoltata. Ad un certo punto sento una risata, la mia inconfondibile, dice, ma neggia, terribile. Terribile. Cioè, chissà che si aspettava poi alla fine una delusione incredibile perché ero soltanto io. Eh, vabbè, che volete farci? Possiamo anche, molto spesso riusciamo più simpatici al microfono che nella realtà, voglio dire. Ma no, no, diciamo che è tutto relativo questo. Se uno è simpatico dietro un microfono sarà simpatico anche nella vita normale di tutti i giorni. Eh, ma sai, chi sabe, molto spesso si creano delle, come dire, ci sono delle antipatie. La famosa medaglia a due facce. Sì, magari non te lo dicono, però ci sono. Poi ci sono quelli che vogliono essere sempre vantate, se dice in siciliano. Ma noi siamo truffaldini, la nostra medaglia ha una sola faccia. Ah, stessa, sempre la stessa. Non c'è né testa né croce, scegliete voi. O siamo la vostra croce, da tutte e due le parti, o siamo la vostra testa. E a proposito di testa, ecco il brano che mi è stato richiesto e mandiamo in onda Migente, Migente di Baldwin. Mamma, Turuzzo, quanto cose sai, sai di tutto e di più. So leggere. Sei lì. Leggo quello che ci propone la regia. Va bene, ci mette davanti questo grande schermo. Leggevo poco fa, va bene, perché noi nel nostro schermo ci sono le ultime notizie che passano. Leggevo Torino trafugato salame al cimitero. Ho detto, come trafugato salame al cimitero? Quando è ripassato di nuovo, questo salame erano diventate salme. Avevo messo una A in più. Non mi davo una spiegazione perché dei ladri dovevano rubare del salame al cimitero. E un ultima uno, io non lo so. Oddio, di salami morti magari ce ne saranno, ma poi cosa se ne vanno a fare di salme? Chissà, chissà. Magari poi chiederanno il riscatto se vuoi indietro. Vivo morto, vivo morto. Ti ricordi con Mike, buongiorno. Quindi è possibile che poi possa essere utilizzato appunto per chiedere il riscatto. E comunque alla cattiveria umana, alla fantasia umana non c'è veramente limite. Sono d'accordo con te, la terminologia giusta è quella di fantasia. Pur di racimolare soldi o altre cose, fanno di tutto e se ne inventano veramente di tutto. Alle volte quando sai, ti fermi un tantino, magari vai a leggere un romanzo, oppure ti guardi un film, magari queste serie tutte particolari dove ci sono i serial killer, dove ci sono i criminali, Criminal Minds per esempio, è una serie che mi piace moltissimo. Alla fine tu pensi che veramente non possa accadere nella realtà qualcosa di simile. Invece non è vero. Mi rendo conto che fra tutti gli esseri viventi la cattiveria è umana. La cattiveria è dell'uomo tipica. Anche perché se tu non arrivi col tuo cervello a organizzare determinate cose, vedendo le stesse cose fatte in un telefilm, in un film, poi ti portano a metterle in atto. Sì, perché poi alla fine istruiscono, insegnano, anche internet, Google ci spiega di tutto e di più. Ti vuoi fare una bombetta? Dottor Google lo chiamano, perché molte persone oggi, anziché andare dal proprio medico, da specialisti, aprono Google e gli dicono mi fa male il polpaggio della gamba destra, cosa può essere? E Google dà la soluzione. Dico, attenzione, al 90% non c'entra o niente con quello che avete voi, quindi la cura va fatta in luoghi e con persone appropriate. Così come per esempio l'altro giorno ho visto in televisione, ho ascoltato l'intervista, di un personaggio che è importantissimo sul web. Questo personaggio che si chiama Salvatore Aranzulla. Mi ero spaventato, è ripartita con Salvatore Aranzulla. Tu, qualsiasi problema tecnico tu abbia, immediatamente cosa dice Salvatore? Vai a chiedere a Google e quello ti risponde tranquillamente. Hai un problema con WhatsApp, con Facebook, con qualcuno che ti spia, con vuoi essere misterioso, vuoi non farti seguire da nessuno. E Salvatore Aranzulla te lo dice. Sarà un tuttologo allora, sicuramente da questo punto di vista sarà un tuttologo. No, no, è un... potrebbe essere definito un esperto, è un tecnico. Quasi quasi mi piacerebbe definirlo hacker. E se ne intende di tutto e di più. La domanda... prego. No, 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 siccome stamattina avevo un piccolo problema sul cellulare, chiamiamo Aranzulla, Aranzulla! Tu scrivi su Google il problema che hai, Salvatore Aranzulla, ti risponde immediatamente. Comunque, c'era una ragazza la quale chiedeva, mi sai dare informazioni a proposito del come fare a spiare il fidanzato, l'uomo che si ama, il marito, eccetera, eccetera. Come faccio a spiarlo per vedere se ha un amante? E lui, poveretto, che sa come si spia in realtà, ha risposto, credo che nel rapporto di coppia la cosa fondamentale sia la fiducia. Anche perché se vai a controllare il cellulare di un marito, di un amante, di un fidanzato, ti lasci sicuramente perché, guarda... Bene, dalla regia ci invitano alla pubblicità? Sì, ma facciamo quello che dice la regia. Altrimenti? No, altrimenti... Quelle famose pacche sul culetto le prendiamo noi, eh? No, dai, gentile è gentile, di fatto è di nome, ci tratta benissimo. Carucci, va bene a muovere! E muoviamoci, pubblicità! Ave Cesare, così avrebbero detto i romani. Grazie dei complimenti che ci arrivano via internet. Siete bravi e belli, due aggettivi che calzano a pennello. Soprattutto belli, eh? Ah, belli! È un dolce ricordo! Dai, la bellezza è sempre quella interiore, sempre quella interiore. Ma è sempre così, appena non c'è possibilità alcuna di estrinsecare, di far vedere quanto siamo belli, allora siamo belli dentro. Ci rifugiamo, ci rifugiamo, eh? Siamo belli dentro. Salvataggio in calcio d'angolo, dicono. Sì, tanto, hai visto, prima Cesare Cremonini parlava di eroi, nessuno di questi tempi vuole essere più Robin, nessuno vuole essere eroe, ma tu ripensando, secondo te oggi, per essere eroi, che cosa occorre? Eh, una domanda proprio così, da quattro soldi, da estrinsecare in poche... essere eroi, bisogna essere pazzi, bisogna essere incoscienti. L'eroe non è mai stato eroe per scelta, ma è stato eroe per incoscienza, altrimenti determinati atti non si sarebbero mai fatti. Quindi il coraggio effettivamente non è che sia coraggio inteso nel significato vero, ma è quasi incoscienza. Sì, d'accordo? Non lo so, perché più delle volte l'eroe è predeterminato quello che fa, perché pur sapendo di correre dei rischi, pur sapendo di dover dare e cedere molto di se stesso, eppure continua. L'eroe è chi lotta per i propri ideali e poi perde la vita. Oggi come oggi, il problema è chi ha l'ideale? Infatti... Chi è idealista oggi? Infatti a chi si sposa una volta dicevamo una vita di intelligenza sprecata in un attimo di incoscienza. Ecco, lui riporta il coraggio al matrimonio, perché lui è stato coraggioso e ti è andato tutto bene. Io sono stata coraggiosa e incosciente, anche incosciente, perché un pizzico di raziocinio non è che faccia male. Il raziocinio bisogna anche aggiungere. E vabbè, ci vuole... Non solo cuore. Stai notando oggi la nostra pacatezza nel parlare tranquillo? È perché io sono leggermente incavolata. È perché, se in questo non me l'hai manifestato, pensavo che magari il caldo ci ha un pochino lasciato andare, quindi non ci accavaliamo, non litighiamo, parliamo con molta calma, con molta tranquillità. Devo dire che l'altro giorno mi dicevano, voi due in radio, quando litigate, sembrate la coppia Raimondo con Sandra. Chi è Raimondo? Raimondo! Raimondo, devi essere tu, io sono Sandra Mufozza. Voglio dire, sempre donna sono stata. E quindi, in realtà, Sandra e Ivianello, la coppia Ivianello, erano sempre lì a litigare, ad evidenziare. Ognuno di loro voleva vincere. Sandra, la tipica donna, ma insomma, gomma mia, presentosa, eccetera, eccetera. Ma tu non mi hai detto mai che noi che barba, che barba, che noi che barba, non me l'hai mai detto. È ovvio, tutto cucato caso io a me. Capito? E comunque, che coppia, stupenda. Due persone che si amavano. Noi due, sì, hai ragione. No, noi due no, loro. Ah, loro due. Si amavano in una maniera incredibile. Che poi anche il litigio, se fatto bene, se poi alla fine ha come scopo quello di fare la pace, e di fare la pace in un certo modo. Ecco, che barba, che noia, che noia, che barba, eccetera, a letto. È anche bello litigare. Senti, tu credi nella reincarnazione? Io sì. E allora tu sei Sandra, io ci credo pure, e io sono Raimondo. E lui chi è? E lui è Marco, il nostro regista. Bravo. E Toruzzo, ma che dire? Si è reincarnato. Oh, io non ho capito. Wow. Ah, quanto è bello Ligabue. Eh? Io impazzisco per quest'uomo. Ed è come... Ah, nonostante tutto, non è venerdì. No. Ma lo stesso, non rompete i coglioni. Ligabue. Tra musica, pubblicità e doc news, sono riusciti a toglierci la parola per 15 minuti. Eh? Bello. Eh, bello perché ci siamo riposati, perché si sono riposati i nostri ascoltatori. Bello perché abbiamo ascoltato della bella musica e poi perché abbiamo avuto la possibilità di prendere un caffè. Lui no, perché non prende caffè. Lui è un santo. A una certa ora non ne prendo più. Ormai in riserva ho l'ultimo dopo il pranzo e per la giornata abbiamo terminato. Ora io dico, tu sei un santo. Non hai vizi di nessun genere. Ma che uomo! Ma che uomo! Mentre invece, tutti i vizi ci lascia là o rido. Bravo, così mi piace. Non è vero, non è vero che non ho vizi. Anch'io qualcuno ce l'ho, eh? Vabbè, sarà... Come tutti. Sì, ma sarà qualcosa di passabile, di accettabile. Passabile, passabile. Passabile, perché devo dire, per poter stare insieme ad un uomo per così tanto tempo, i pregi non li deve avere semplicemente la donna, ma anche l'uomo. Quindi, se un matrimonio riesce, dura nel tempo per anni, 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 non diciamo quanti, quasi cinquanta. Grazie, grazie per l'augurio. Ancora è lunga, ma grazie comunque. Comunque, voglio dire, vuol dire che ci sono dei pregi da ambe due i lati. La cosa che invece ci ha colpito prima, o perlomeno, vedevo su Sky TG24, c'era uno scrittore che veniva intervistato da un giornalista di Sky. Uno scrittore che, peraltro, io conosco non perché mi hanno presentato, ma perché seguo su Facebook. E consideravamo che adesso tutto quello che si crea nella nostra vita, tutto quello che è importante, vede i partiti, eccetera, si crea sul web. Questo signore si chiama Roberto Emanuelli e ha scritto diversi libri, diversi. Io ne conosco semplicemente due. Diversi. Che sono dei successi, che, peraltro, da questi libri, come da tutte le opere dei vari scrittori, noi traiamo quelle frasi famose che poi postiamo e magari spacciamo per nostre. Nel momento in cui, come si fa a postare? Sicuramente non perché la persona vuole apparire in quel modo, ma semplicemente perché la leggi, ti piace, ti ingrippa, si dice così. E allora lo posti. Per esempio, c'è una frase di questo Roberto Emanuelli che dice E quando avrai paura, io ti abbraccerò ancora. Eppure questa frase è una sciocchezza. È una sciocchezza. Hai paura, ti abbraccio per far sì che le tue insicurezze vengano in un certo qual modo represse. Cioè ti do forza, coraggio. Oppure siamo tutti il profumo indimenticabile di qualcuno. Sai quando un libro ha successo? Quando? Quando lo si legge in bagno. Quando lo si legge in bagno allora ha successo. Dopo questo ci vuole fare un disquisizio. Eh no, dai, dopo le tue disquisizioni su questo Robertino, va bene, ci voleva anche una stilettatina, chiamiamola così. E comunque ti devo dire che questa frase mi piace adesso me la posto. Siamo tutti il profumo indimenticabile di qualcuno. Mi piace, mi piace. Che profumo, che profumo. Eppure sì, è vero. È vero perché ci sono dei profumi che ti entrano nella mente, nell'anima, nel cuore. E non li dimentichi mai. Non li dimentichi mai anche perché magari quei profumi ti piacevano. Io non dimenticherò mai un profumo che si chiama Au Sauvage. Au Sauvage. Au Sauvage. Non dimenticherò mai un profumo penetrante Aquarium, si chiama. Lo leggi perché è scritto in francese. Ricordi quel famoso telegiornale, quel radiogiornale, quando qualcuno disse, leggendo naturalmente, dice il carcerato è stato portato a Regina Coeli. Sì, me ne ricordo. Immagino che lo ricorderai. In quegli anni che furono allora è stato portato a Regina Coeli. Era scritto in quel modo, ma abitualmente lo si legge Regina Celi. Abitualmente. E l'Adenorum, molto probabilmente, in latino, il soggetto di cui stiamo parlando. Non l'aveva mai fatto, quindi magari non aveva mai sentito parlare di un carcere. E quindi, che vuoi che ti dica, amico mio? Comunque, consideravi anche tu che adesso non si vive più, non si fa più niente, non sei più niente se non vivi su questi social. Infatti, più sei postato, più hai follower e più aumenta il tuo successo. Devo dire che molto spesso, purtroppo, ci sono persone che criticano, criticano. Ah, stai sempre su Facebook, stai sempre su Facebook. Ovviamente, sono loro che ci stanno e hanno un'invidia pazzesca, perché magari tu hai 200 follower che sono affezionati e lui o lei, poveretta, non ha niente. Ma d'altronde, se tu la leggi che è sempre su Facebook, vuol dire che anche tu sei sempre su Facebook. Ma sì, ma dai, ora con il cellulare. E come chi dica, ma che fai, che mangi in chiesa? Dici, sì, dammi un pezzacone. È la stessa identica cosa. Ma poi sai, vedi persone, su Facebook, poi su questi social, scopri la vita delle persone, se ci sono meno delle relazioni, se ci sono dei corteggiamenti in corso, se le persone sono bisticciate, se non sono bisticciate. Cioè, poi ci lamentiamo perché non abbiamo privacy. E cavolo, se la mettiamo lì dentro, che volete? È ovvio. Comunque, beato te che non sai nulla di questi social. Beata te, per fortuna che ci sei. Ragazzi, finalmente questo brano fantastico e che io voglio dedicare alle persone che amo, tutte le persone che amo, perché è un brano veramente... Fortuna che ci sei. Le piccole cose di J-Ax e Alessandra Moroso. Le piccole cose, a proposito. Fanno le grandi cose. Tu sei attento ai dettagli? Sì. Ah, bravo, così mi piacciono gli uomini, attenti ai dettagli. E come? E come se sto attento ai dettagli, guarda? Le piccole cose, magari le cose che facciamo di tutti i giorni, di tutti i giorni, che ripetiamo molto spesso. Magari diamo quasi per scontate. Abitudinarie. Abitudinarie. Però sono importanti. Da quelle piccole cose, dal quotidiano, dipende, che so, la nostra felicità. Tu sei alla continua ricerca della felicità? Sì. Quanti due anni che ti faccio? Con Will Smith. La ricerca della felicità. Con Will Smith. Will Smith, hai ragione. Terrico, sì. Bellissimo film. Quando si arriva a perdere la nostra gioventù, così ormai, siamo sempre giovani, per carità di Dio, però la felicità, credo che sia una cosa intrinseca all'interno di noi, è quello che si va a cercare, è più la tranquillità. Più che la felicità, si cerca la tranquillità. È sempre un sinonimo di vita, sicuramente, di star bene e tutto il resto, però la tranquillità ti aiuta a essere anche felice. Lo sai, secondo Totò, la ricordi la definizione di felicità secondo Totò? Adesso te la vado a cercare, vediamo un attimo, te la leggo. Dovresti avvicinarti un attivino, altrimenti non ti ascoltano da casa. A me fa niente, saranno felici. Ma non tranquilli. Dici, questa chissà cosa prepara. È scomparsa. E poi, come dice la nostra Mariangela, andiamo a cercarti a chi l'ha visto, perché stamattina forse siamo arrivati troppo in ritardo. Ah, non lo so. Abbiamo cominciato sei minuti dopo le undici. Naturalmente ci sono spazi che vanno colmati prima del nostro ingresso in scena e quindi quegli spazi radio giornale, pubblicità. E poi arrivano loro, arrivano le 2T, Terri e Turi, col programma detto tra noi. Ricordate, in nostra compagnia lunedì e giovedì, sempre dalle 11 alle 13, su Radio Doc. Oh, mamma mia, il calendario vivente, il calendario parlante, il nostro carissimo amico Turuzzo Motta. Hai trovata la frase? La frase qua, c'è l'intervista, perché lui definisce la felicità durante questa intervista con Oriana Fallaci risponde, appunto, definendo la pubblicità alla domanda, principe, esiste la felicità. Ma non ci sono problemi perché adesso la troviamo. Intanto arriva un altro brano che è stato da me richiesto a viva voce perché dovete sapere, questa è una canzone che io canto quando sono in macchina. Ascolto questa canzone, musica, palla e stono come una campana che in più campana non si fa. E traffico bloccato, si fermano tutti. Sta passando Terry con le vibrazioni. Dalle vibrazioni alla grandissima e bellissima Beyoncé sicuramente il passo non è di quelli più brevi. Comunque, due brani meravigliosi. Ho capito, e vibrazioni bravi. Bravi, ho detto due brani meravigliosi. Sì, però passo a descia, manca chi? Stupi camatore che è? Sandra? Sandra, sveglia e dica a noi che barba, che barba, che barba, che barba. Sandrina? Sandrina, sono qua. Allora, vediamo un attimino che cos'è la felicità secondo il principe De Curtis. Alla domanda, principe, che cos'è la felicità per lei? Totò rispose, forse vi sono momentini minuscolini di felicità e sono quelli durante i quali si dimenticano le cose brutte. la felicità, signorina, signorina mia, è fatta di attimi di dimenticanza. vuol dire quando mi verrà l'Alzheimer? E se lo diceva Antonio, e se lo diceva Antonio, ci possiamo credere tranquillamente, d'altronde, principe De Curtis in arte totò è stato e sarà sempre un indimenticabile, un evergreen. Un evergreen, è un evergreen, è un evergreen, perché devo dire che è vero, si è felici se si ha il coraggio di dimenticare, se si perdona, perdonare se stessi prima di ogni cosa, perdonare il prossimo e poi dimenticare. Chi non sa dimenticare non sarà mai felice, potrà ridere, potrà dire di essere, ma chi porta rancore e odio e non riesce a dimenticare quello che ha fatto e quindi non ha perdonato se stesso e nello stesso tempo quello che ha subito, non sarà mai felice. Ricordate Andreotti, lui metteva tutto dietro in quella famosa cobbetta, lui lo teneva là e magari lo tirava fuori al momento opportuno per qualsiasi situazione, per qualsiasi amico o nemico, aveva sempre delle buone o cattive cose da dover rapportare. Ok, a cosa facciamo ora? Sono le 12.36 minuti primi, noi aspettiamo un ospite che verrà fra qualche istante, fra qualche minuto. Ospite con la quale parleremo, abbiamo già avuto quest'ospite a dire il vero, abbiamo parlato della sua attività, attività che è stata interrotta per un certo periodo per poter avere la ristrutturazione degli immobili e anche per poter costruire dei settori particolari dedicati al benessere, al nostro benessere e soprattutto al benessere della donna, perché la donna ha bisogno più dell'uomo del benessere. La donna, questo, 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 beate le donne, viva le donne, viva le belle donne, andiamo con la pubblicità su Radio Doc. Andiamo, dai! I vincitori di Sanremo, Ermal Meta e Fabrizio Moro, con Non mi avete fatto niente. Che fortuna, eh! Come non ne facciamo niente? Niente! Allora, mi piace leggere una notizia dell'ultima ora, quella per quanto riguarda la vaccinazione di quel grande piccolo esercito di bambini, erano in 30.000 che ancora non avevano il vaccino per poter entrare nelle scuole elementari, nei asili nido, gli asili normali. Ebbene, diciamo che è arrivata la conferma che il 95% di queste vaccinazioni è stato effettuato, quindi è rimasto uno sparuto numero di un migliaio di bambini che ancora non l'hanno effettuato. Mamme, genitori, tutti, state tranquilli, perché ormai il grosso è fatto, restano solo gli spiccioli. Terry, buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Che dice Totò? Totò continua a parlare, poveretto, tiene bella compagnia lì, lassù, a tutti gli angeli e perché no? Sicuramente riderà con gli angeli e con tutti i santi. Dopo aver... Sono convinto che saranno gli angeli e tutti i santi a ridere con lui. All'inverso, lui teneva di buon amore la piuma. Ti prego, Mattista! Vuoi un sollecito? No, no, sollecito deve solo stare un nero e schieno. Comunque, dopo questa raccomandazione, dopo l'informazione fatta da Turuzzo a proposito dell'esercito di 30.000 bambini, mai contasti? Così era? Un nome? 30.000... Giovanni, Francesco, Paolo, Ricola, Davide, Mattia... Ah, mai fui Mattia Basquale! A proposito, Turuzzo, ma... Di che? Dimmi, che libri ti piacciono? Cosa leggi di solito? Un giornale? Sì, io leggo pochi libri, però leggo molte informazioni sui quotidiani e anche sui giornali sportivi. Dico, leggo pochi libri. Al contrario di mia moglie, invece, passa le serate, va bene, io mi vedo magari qualche partita, qualche film che magari a lei non aggrada molto, e legge, legge, legge sempre i libri in continuazione. E lei che cosa ama? Ah, ma... Nicola Spark, come scrittore. No, guarda... Diciamo che tutta la sua... Io ne ho prestati di questi libri e non sono ritornati più a casa. Vero? Ma non a tua moglie. No. Ama Nicola Spark, in particolare, come scrittore, e ha letto tutte le sue collane, tutti i suoi libri. E quante... E quante... Che erano? Perle? Quanto perle aveva? Visto che ha letto tutte le collane. Ma una perla di ragazza come lei non ha bisogno di altre perle, guarda. Ah, strutture. Una famiglia informata, quindi, questa la vostra. Ma mi piace Tulucio perché legge moltissimo. Poi non è importante leggere romanzi. Certo, chi legge romanzi viaggia moltissimo e dà tante vite, conosce tanti luoghi, perché grazie alla descrizione che viene fatta dagli autori noi andiamo in tanti mondi completamente diversi dal nostro. Ma l'importante è leggere. mi diceva il mio insegnante anche Topolino. L'importante è leggere. Leggere, leggere. Di fumetti ne ho letti tantissimi. Topolino faceva parte di uno di quelli ma il mio preferito era uno e uno solo. Tex Wheeler. Tex Wheeler! A me piaceva Diabolic, mi piaceva tanto Eva Kant perché a me piacciono gli amori così come dire, giallo-rosa. Nel giallo che può anche essere cruento, violento, perché mi piacciono ma ci deve essere un non so che di rosa. Ricordi cosa leggevano le nostre nonne? Black? No, Grand Hotel! Grand Hotel! Brava! Si vede che l'hai letto anche tu. Eppure molti attori molti attori hanno cominciato con Grand Hotel con questi fotoromanzi. Devo dire che Grand Hotel mi prendevano e mi prendono costantemente in giro perché io sono una persona molto romantica perché non sembrerebbe ma lo sono. Poi secondo me l'amore deve essere visto in una determinata maniera io non non faccio sconti e allora mi dicono sempre tu me figli a leggiste shop Grand Hotel Ma non a 5 stelle No, 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 no Allora adesso sì un altro brano musicale questa volta lo dedichiamo a Marco perché se l'hai scelto a suo uso e consumo sì, così è Gli piace Gli piace Allora ha dedicato a lui dai Bruno Mars Lo chiamiamo in italiano Susino Mars Tutto va bene Pollice in giù vuol dire che ce ne dobbiamo andare Dalla regia ci hanno fatto prima con l'uno poi con l'altro e anche per oggi abbiamo terminato Mamma mia come come hanno vissuto ai tempi dei romani questo pollicione giù su giù su insomma manicure manicure al pollice ne hanno fatta a non finire Nell'arena ma suzza Eh vabbè dai Mancano quasi 5 minuti alle ore 13 anche per oggi con quest'inizio settimana tra lo scirocco al sud e il grande freddo al nord abbiamo terminato Terry Signori l'almanacco del giorno si chiude qui ringraziamo il colonnello Salvatore Pernacchia Salvatore Motta al quale va il nostro applauso ma soprattutto il nostro saluto affettuoso Comunque tu sei sempre prontissima a degradarmi perché mi portavano a generale generale Ma vedi che tutti i colonnelli sono quelli che vanno in tv Colnelli? I colonnelli so Andiamo? Sì sì Salutiamo Yes Ciao Sandrina Ciao Raimondo A quando diamo appuntamento? A giovedì Giovedì sempre 11.13 stessa radio ricordate Radio Doc 105.8 106.2 Che barba che barba che noia che barba non succede mai niente in questa radio però 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 vi diciamo sempre Amatevi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti